Questo è uno dei fondamenti principali della politica del popolo della libertà. Non lo vede come un'obiezione? Assolutamente, anzi, quello dei premi della possibilità di detassare i premi di produttività è uno dei punti di questa manovra che riguarda soprattutto i lavoratori autonomi, però anche la novità di questa manovra è che la pubblica amministrazione entra in campo estendendo questo beneficio fiscale anche alle forze di sicurezza, quindi forze dell'ordine, carabinieri, vigili del fuoco. Tra assegno generalizzato e quotiente familiare quale misura preferisce? E comunque calcolando che sono misure da 9 miliardi di euro e questi miliardi di euro non ci sono, oppure si potevano trovare? Ma il quoziente familiare è un punto d'arrivo che richiederà del tempo, richiederà un processo. Questa è la prima tappa verso questo punto d'arrivo, perché iniziamo finalmente a vedere politiche anche fiscali che hanno la famiglia come centro, non più il singolo individuo, ma la famiglia che viene più aiutata quanto più è in difficoltà. Quindi questo è il nostro obiettivo, di riuscire a arrivare alla famiglia come centro fondante delle politiche. Sabato c'è stata la giornata della colletta alimentare, molta gente si è data da fare per rispondere a un bisogno vero, e per rispondere anche a quel desiderio di educarsi alla condivisione che muove un popolo presente. Vi rendete conto che dovete riconoscere le domande, la creatività, i desideri della società civile, delle associazioni per esempio? Assolutamente sì, assolutamente sì. Questa è stata un'iniziativa bellissima che va avanti da tanti anni. Il principio di sussidiarietà per noi è un cardine della politica, ma è nella nostra tradizione cattolico-liberale, per cui il terzo settore, le associazioni, il no profit, devono essere messe in condizione di operare, essere messe in condizione di agire liberamente, lasciando allo Stato quello che è proprietà ed esclusività dello Stato e lasciando ai privati, all'associazione, a chi da tanti anni fa questo con tanta passione, la possibilità di agire. Cosa risponde allora alle proteste, alle reprimende di molte associazioni, di molto non profit che chiedevano di più, e chiedevano soprattutto politiche familiari, non interventi per la famiglia? Il no profit, il 5 per mille nasce col Presidente del Governo Berlusconi, il più dai meno versi, quindi poter detrarre tutto ciò che viene dato al no profit sono iniziative del Presidente del Governo Berlusconi, quindi certamente siamo in sintonia con questo mondo delle associazioni. e mi permetterei di sottolineare un attimo soltanto l'iniziativa della Social Card, ripeto che ha avuto grande consenso tra la gente e che deve essere vista veramente come uno strumento concreto per aiutare tanti italiani che non riescono a farcela. E questo aiuto, che sembra piccolo, ma in realtà è fatto di soldi concreti e di sgravi e di sconti anche nella distribuzione, è uno strumento importante. Questa per esempio è un'idea di Obama e vediamo che cosa ne pensa la senatrice Baio Dossi che vado a incontrare tra pochi minuti. Grazie senatore, arrivederci. E' ben arrivata la senatrice Emanuela Baio Dossi, senatrice del Partito Democratico, dicevo prima in Commissione Infanzia. Noi abbiamo ascoltato l'opinione su questa manovra anticrisi, naturalmente a favore del senatore De Lillo, e abbiamo fatto una serie di domande che rivolgerò più o meno, anche in altra forma, modulandole secondo la sua peculiarità, anche a lei. Intanto, come consuetudine nel nostro programma, le lascio due minuti, fa fede il cronometro, per il suo parere. Allora, per la famiglia i conti tornano? Guardi, purtroppo è stato usato male il pallottoliere, per usare l'immagine che vuoi... perché credo che i conti non tornano assolutamente. Anch'io sono convinta, come ricordava anche lei prima, come le categorie sociali, ma anche altre forze associative, leggevo proprio un articolo, per esempio, del Presidente delle Acre, che si è espresso in modo contrario, quindi non si tratta solo di forze politiche. Noi diciamo no a questo intervento, una tantum, non perché non vada bene. Nel momento in cui entrano dei soldi nelle tasche delle famiglie, visto che vivono in una situazione di difficoltà, io credo che nessuno si permetta di dire che è sbagliata. Ciò che è sbagliato è perché non è una scelta a favore della famiglia, non è una scelta strutturale, non cambia nulla. Avere 200 o 500 euro in più serve per il momento contingente, magari per comprare qualcosa da mangiare, che è importante, ma non serve invece per andare incontro alla famiglia, per dire come è stato, io credo in te, tu per me sei importante, sei importante perché metti al mondo dei figli, perché li educhi, li fai crescere, affronti anche alcune difficoltà, perché sei un punto di riferimento per l'intera società. Quindi, come posso dire, lo dico con pacatezza, sapendo che il momento è molto difficile, quindi non era semplicissimo assumere delle scelte, è come se questo governo avesse nascosto un po' la testa sotto la sabbia e non avesse fatto una scelta. Mi spiace, è mancato il coraggio, è mancata anche l'idealità, la convinzione che la famiglia è importante. Per me la famiglia è il mio punto di riferimento. Grazie. Questa spicciolata di secondi gliela rubo volentieri, passo subito alla parte delle domande. Tra un attimo. Allora, senatrice, il ping pong che non abbiamo potuto fare insieme, lo facciamo indifferita, quindi le chiedo concisione nelle risposte e da subito una precisazione. Di quale famiglia parliamo? Guardi, parliamo della famiglia, la famiglia, che è quella composta da marito, moglie e speriamo da un maggior numero di figli. Io mi permetto di dire che parliamo anche della famiglia alcune volte spezzata, perché purtroppo sono aumentati molti i numeri delle separazioni e dei divorzi. È una famiglia che sta soffrendo quella. La mamma, per esempio, che accompagna i bambini, ma c'è ancora anche il papà, perché il bello della nostra legislazione è che i due coniugi si possono anche separare, ma restano sempre genitori quando hanno dei figli. Rivolgo come domanda una serie di obiezioni lette o pensate. Perché dagli Stati Uniti, per esempio, qualcuno ha dichiarato si importano solo misure che danno un'idea compassionevole, tipo la social card? Bisognerebbe agire sulle pensioni. Questo è un commento di Bersani. Ma sulle pensioni, appunto? Guardi, io credo che anche questa sia una scelta giusta, sicuramente agire sulle pensioni, però non è una scelta coraggiosa. La scelta coraggiosa che guarda al futuro sarebbe stata quella di fare una scelta strutturale per la famiglia. Porto un esempio semplicissimo che possiamo capire tutti. Se noi adottassimo dalle detrazioni che vengono fatte attualmente sulle persone, sullo stipendio delle persone che lavorano, passassimo alle deduzioni, vuol dire che decidiamo di togliere dalla retribuzione di una persona che vive all'interno di una famiglia una determinata quota. In questo modo verrebbero favorite le famiglie che hanno dei figli, mentre oggi una famiglia che ha figli paga di più rispetto a una che non ne ha. E il desiderio e l'auspicio di questa no tax area familiare, che arriva dall'associazionismo da parecchio tempo, però parlava di manovre da 9 miliardi di euro. Questi soldi non ci sono oppure si potevano trovare? Si potevano anche non trovare 9 miliardi di euro. Innanzitutto 2 miliardi e mezzo sono stati messi per questo bonus. Se si aggiungevano altri 2 miliardi e mezzo, si poteva cominciare a fare un intervento efficace. Per esempio, individuando un tetto di reddito, fino a 40 mila euro si adottava la no tax familiare e questo avrebbe comportato l'inizio di una vera politica per la famiglia.